Avvicinate qua, benissimo. Gigi, perché non provi pure tu a fare un po' di ginnastica? Ma sai, non è che uno vuole fare, ma sai, non è che lì mette i celli e non sono che voglio che ti dica, poi, oddio, io quasi quasi ci provo. E dai va. Hai visto mai? Ciao ragazzi! Ciao! Come state? Bene! Avete imparato la ginnastica nuova? Sì! Allora via! Cinque, sei, sette, otto. Gira il braccio, tocca il piede. Cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro. Cinque, sei, sette, otto. Corri, corri! Jumping jacks! Sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Hai capito! Volevi rubare il mio posto, eh? No, non è che te lo volevo rubare, ma non arrivavi più. Ma mi dispiace che sono arrivata nel tardo, però facciamo una cosa. Facciamo la nuova ginnastica! Ok? Bene! Hai voltato il disco. E questo vuol dire che hai voglia di continuare. Allora, adesso ti insegno a muovere il corpo come piace a te. Sulla musica! In piedi, con le gambe divaritate, le spalle erente, fingi il torraccio a destra e a sinistra, senza muovere il bacino. Destra, sinistra. La fortuna è la tua pietra magica. Sulla musica! Grazie a tutti. Raghi aida, raghi aida, con voi. Raghi aida, raghi aida, e raghi aida, se ne vuoi. Ok, ci siamo divertiti un po', ma adesso si riprende. Sbraiti a terra e cominciamo a lavorare sui addominali. Pieda le ginocchia, braccia allungate dietro la testa e segui il mio tempo. Su, giù, giù, ancora, ancora e... Giù, giù, su, giù. Raghi aida, raghi aida, raghi aida, e raghi aida, se ne vuoi. Bene, ora, alzate le gambe in verticale e facciamo come il primo. Giù, su e giù. Su, giù, su, giù. Ancora, giù, su, giù. Sempre con le gambe in verticale, sollevate il busto e appoggiatevi sui gomiti. Sbordiciate, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bravo!